Creativity, Teamwork, Fraternity. Is it possible? Inside Jam Verde. Vuoi mettere in campo le tue capacità e svilupparne altre che non conosci ancora? Un'esperienza al Jam Verde è quello che fa per te. Musica, canto, recitazione, comunicazione, audio, luci, video e molto altro. Un'esperienza umana e lavorativa in un gruppo internazionale. Vivere e lavorare insieme richiede un'attenzione particolare. a tutto ciò che gli altri stanno vivendo. Questo ti mette in un continuo movimento verso gli altri permettendoti di superare i tuoi limiti per un bene comune. La certezza che per lavorare e vivere bene insieme ognuno debba mettersi nell'atteggiamento dell'ascolto e dell'inclusione. Considerando punti di vista, apprezzamenti e critiche come spunti per migliorarsi a 360 gradi. Definisci con tre parole il progetto di fraternità che porta avanti il Jam Verde con il suo lavoro. Creatività, apertura e innovazione. Inclusivo, autentico e spinto al futuro. Love, dialogue e joy. Perché un giovane dovrebbe scegliere di fare questa esperienza? Per sperimentare in prima persona un modo di vivere la propria vita, dove ti puoi esprimere senza esporti a giudizio e dove l'errore non è segno di debolezza ma un'occasione per imparare. Può essere un'esperienza e un'opportunità di crescita sia personale che professionale in un ambiente che guarda in avanti, in un ambiente nel quale si può sperimentare e svilupparsi sbagliando anche, ma passo dopo passo, migliorandosi sempre più insieme a persone che camminano con te. Vieni a conoscere la nostra squadra. I tuoi talenti. Semplicemente tu. Sarai un grande contributo al lavoro di Kip per un obiettivo comune, la fraternità. Il mondo che sogniamo lo possiamo costruire insieme. E tu puoi fare la differenza. Sì, 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 è possibile!